Grazie a tutti. Lo facciamo tardissimo perché abbiamo un sacco di cose da farci raccontare dai nostri ospiti. La trasformazione della cultura di impresa nella provincia italiana, il caso di Vigevano, è il titolo di questa serata che si inserisce in un miniciclo di incontri, il prossimo sarà domani sera alle 18.30 all'auditorio San Dionigi che va a esplorare il tema della filiera produttiva del territorio attraverso la sua storia ma proiettandosi verso il futuro. Mi piace questa sera avere qua le ragazze del corso moda dell'Istituto Casale perché sono un po' il nostro futuro e quindi anche le testimonianze che andremo a raccogliere dai nostri relatori possono essere utili, spero, per loro. Relatori che saluto e ringrazio sono il professore Adriano Ballone, il professor Giacomo Balduzzi, Massimo Martinoli. Ma la serata è organizzata dalla società storica di Vigevano e quindi lascio la parola al presidente professor Giovanni Portoni. Io ti ringrazio. A dire la verità la serata è stata organizzata dal DIMUS LOCI, cioè dal dottor Nisalata. Questo non è solo una legazione, un'assunzione di carico ma è un dovuto riconoscimento alla tua fatica, al lavoro settentale, forse anche da prima che fai, per vedere Vigevano e molte prospettive nazionali e internazionali di una prospettiva futura, una prospettiva futura nell'ambito del tuo festival delle trasformazioni. Quindi io sono grato, il dottor Nisalata, per aver organizzato e avermi tirato dentro in realtà, facendo tutto per questa serata e ovviamente non solo per questa serata. Ringrazio la presidentessa del Rotary Vigevano Mottara, nel carico di cui faccio parte, la professoressa Pollini e ringrazio i relatori, naturalmente per essere intervenuti e dare una proposta, oltre che una valisi, anche una proposta su quello che può essere il futuro di Vigevano, del nostro territorio, alcuni di loro hanno studiato profondamente il nostro territorio e quindi riescono a vedere anche una prospettiva. e quindi vorrei ringraziare il professore Fabriano Pallone, che non ha bisogno di una mia pubblicazione storico, docente, scrittore, autore di Terre, Mari e Idee, un corso di storia e geografia per le scuole superiori, quindi una personalità culturale che si è dedicata alla educazione, è un momento fondamentale, l'educazione, come io sottolineerò brevissimamente alla fine di questa serata. Di Azzurra Nostalgia, un duetto, ma insomma una specie di concertino tra Lucio Mastronardi e gli altri, tra cui il Vito Corrabicini, ma anche altri personaggi dei Giovanesi, All'ombra dei Samoia, edito addirittura da Alemandi sulla storia della via reale, Uomini, Fabrica e Potere e Torino Operai. Il professor Balduzzi, il cui cognome tradisce penso una origine abbastanza locale o alessandrina o delle nostre parti, è sociologo, docente all'Università di Salerno, si è interessato di analisi sociologiche ed economiche puntualizzate su precisi territori, per esempio ha fatto un'analisi della provincia di Alessandria, post-covid, immediatamente dopo l'evento di Sassuolo, sul distretto ceramico di Sassuolo, quindi si è interessato già di situazioni distrettuali, sul distretto industriale di Vigevono e su un'analisi su Vigevono e la Lomellina, oltre di rato, espansione senza crescita, indagine diatronica e comparativa, c'è in queste analisi in carattere sociologico sempre un riferimento al passato e un confronto con il presente, non so se sia sistematico della sociologia, ma comunque penso che verranno proposte in più chiavi queste analisi anche da parte di imprenditori e quindi con una prospettiva per il futuro da questa analisi. E poi il dottor Massimo Martinoli, imprenditore vigevanese che tutti conoscono e qui è finito il mio compito, quindi lascio la parola ai relatori e a te moderatrice e interrogatrice dei professori. Questo è il ruolo di interrogatrice. Qui abbiamo dei professori, degli storici che hanno studiato il distretto, che hanno fotografato le diverse trasformazioni a cui questo territorio si è sottoposto e per cui è stato protagonista. Allora, la metà di questa sala ricorderà, avrà in presente il famoso articolo di Giorgio Bocca di 60 anni fa, nel quale si disegnava una vigeva che era di fatto antesignana del milanese ingruttito, più o meno, quindi il vigevanese ingruttito che aveva come un unico suo obiettivo fatturare, fatturare, fare soldi per fare soldi. Ecco, a me piacerebbe che Bocca, un miracolo, si presentasse in questa sala, questa sera, o comunque fosse a Vigevano per questa settimana, lui che tanto contestava il fatto che Vigevano fosse popolata di fabbriche, ma non avesse librerie e si accorgesse quindi in questa settimana non solo che un po' di librerie si sono aperte e che sono anche particolarmente interessanti, ma che c'è un fermento culturale anche sottotraccia molto importante. Il festival ne è una testimonianza, dopo questo festival che non so quanti infinità di presentazioni, di incontri, di mostre, subito dopo ci sarà una grande rassegna letteraria con degli autori di altissimo profilo, ci sono incontri, società, associazioni di cultura della città che si impegnano a lavorare sul tema della cultura e noi parliamo di cultura di impresa e quindi probabilmente invece che quel claim che è rimasto appiccicato a questa città che era fare soldi per fare soldi potrebbe tranquillamente trasformarsi in un avere idee per innovare, avere idee per innovare. Questo mi piacerebbe fosse poi il nostro slogan della della serata che ci deve accompagnare anche in linea con il tema del festival di quest'anno e con l'obiettivo di Pavia Capitale della Cultura di Impresa che lo ricordo è un po' il contenitore di alcuni di questi incontri. Perché ho fatto questa premessa? Perché se dobbiamo parlare di trasformazione di orizzonti di vita e di lavoro, dobbiamo necessariamente focalizzarci su un contesto in cui ci troviamo ma senza pregiudizi e senza condizionamenti pregressi, altrimenti continuiamo a ricordare quel tipo di modello a cui ci siamo stati accomunati. E quindi cercheremo di scardinare ma soprattutto di indagare queste trasformazioni con i nostri ospiti. E parto proprio da Ballone. Ballone che appunto come citava prima il presidente Borroni nel suo, in uno dei suoi tanti lavori, un'azzura nostalgia, ha studiato due personaggi focali della nostra territoria che sono Lucio Mastonardi e Vito Pallavecini e li ha messi a confronto in un lavoro magistrale di poesia più che di letteratura e di storia. Però ha anche messo a fuoco una serie di contraddizioni di quel periodo. Ecco, vorrei da lui una analisi di che cos'è il genio del luogo, perché di questo stiamo parlando, di come si coltiva l'ingegno in una città che ricordiamo, anche se lo sappiamo tutti però, ha la piazza più bella del mondo, ha il caramorella e gli sforza, le fabbriche, le scuole, la tecnologia e la moda. Quindi questa città che ha in sé potenzialità infinite, come può coltivare al meglio oggi per domani il suo ingegno? se avete una pistola io la uso subito, è genio sloci, ma io sono fermo alla lezione di Vito Teti, grandissimo antropologo calabrese, che quando parla di genio sloci dice, premette sempre il cosiddetto, perché il genio sloci in realtà è qualcosa che sfugge, scappa, non la si vede, diventa talmente generico che la domanda che lei fa la potremmo rovesciare magari in un'altra maniera, che è più attinente ai lavori che ho fatto. Quello che è successo a Vigeo negli anni 50 e 60 poteva succedere da un'altra parte? e vi rispondo con tutta franchezza, per aiutarvi a crescere, sì, potrebbe succedere benissimo da un'altra parte, una serie di coincidenze portano a far sì che alcuni eventi si caratterizzano in proprio questo luogo. però guardate, io mi sono trovato a dover studiare, più ancora che il cultore della cultura di impresa, io sono un cultore della cultura operaia, cioè di quelli che stanno un po' dall'altra parte e la subiscono, non la fanno tanto. Però per esempio mi sono trovato a studiare la realtà di Ivrea, più o meno negli stessi anni, dove c'era un personaggio che si chiamava Adriano Olivetti. Mi è capitato di dover studiare a partire dagli anni 20 in avanti, lo citava il Presidente, la realtà di Venaria Reale, che è vero che nasce grazie al Savoia, ma non dimenticatevi che a un certo punto, tanto per dirvi, Venaria Reale è un piccolo comune vicino a Torino e ad un certo punto ha 12.000 operai di fabbrica. 12.000, non so se avete presente le proporzioni, perché ha la Gilardini, ha pezzi della Fiat, e soprattutto ha questa grandissima realtà che è la snia viscosa, che era stata fondata da Gualino, personaggio di grandissimo spessore. Torino non sa neanche chi è Gualino, sebbene abbiano su una delle colline una villa oligudiana, che tutti chiamano Villa Gualino, e se gli vai e gli chiedi perché, dice, boh, sempre chiamata così, dice, eh no, prima di costruirla non si chiamava così. Cosa c'è di diverso? Per esempio, una delle cose che è venuta fuori è che a Venaria Reale non c'era una libreria, non c'è mai stata una libreria, mai stata. Quando io l'ho studiata a Ivrea ce n'era una, una, l'ho scritto in azzurra nostalgia. Io credo, per essere molto chiari, non faccio prova, per dire che Giorgio Boca divigevano dell'epoca e non ha capito niente, niente, ha fatto un articolo intervistando fondamentalmente tre persone, una si chiamava Lucio Mastronardi, una si chiamava Luciano Mastronardi e uno era un industriale, ma erano tre persone, come dire, anche coinvolte, perché chi aveva appena chiuso una cartolibreria era Lucio, che aveva una cartolibreria che l'aveva chiusa qualche mese prima. In realtà Giorgio Bocco viene prevenuto, ha già un'idea in testa e spiega la realtà non per come la conosce, per come la verifica, ma per come l'ha costruita e verifica se è vero quello che lui dice. Ma voi capite che partire così è vero che il 90% della scienza parte così, però partire così, mi spiace, io sono uno storico che ha come compito quello di distruggere le fonti, di andare dalle fonti e dire ma sei proprio sicuro? Voglio rivederla quella fonte, questo è un po' il mio mestiere. Certo, c'è una situazione molto particolare, ma non è quella di Vigeru, no. Non dimenticate che siamo alla... Gli anni 50 vuol dire che si esce con la testa appena dalla guerra, ed è stata una guerra devastante per tutti e guarda caso cominciano a crescere economicamente in tutto il mondo tre paesi, tre, che sono l'Italia, la Germania e il Giappone. Guarda caso i tre paesi che sono rimasti sconfitti e questo ci dovrebbe indurre a fare tutta una serie di riflessioni e non solo l'Italia, ci sarebbe molto da discutere, esce da un ventennio asfittico, perché questo va detto per vent'anni, l'Italia è stata chiusa dentro se stessa ed essendo di poche risorse non poteva, come dire, giocare. Hanno tirato fuori la testa in quel momento, non solo. L'Italia esce da venti anni di salari che vengono decurtati, decurtati. Nel 1948 il salario medio italiano, medio, è il 33% del salario del 38%, che nel 38% è il 60% circa del salario del 21%. Il fascismo ha impoverito tutti e lì si comincia a svegliarsi e le prime cose di cui hai bisogno sono le scarpe, perché devi incominciare a camminare, perché all'epoca non si viaggia con le automobili, con i pullman, si viaggia o con la bicicletta o a piedi. Io che sono nato a Cassolnovo, quante volte ce lo siamo fatti, Cassolnovo, vigevano, vigevano Cassolnovo a piedi, a piedi. Allora, ci sono una serie di, come dire, provvedimenti importanti del governo che aprono il mercato. E questa è la fortuna di Vigevano, perché poi molte delle scarpe finiranno in Germania, per esempio. Molte saranno sul territorio internazionale. E la cosa che è un po' divertente, per così dire, è che tutti i personaggi che io ho studiato nel libro che lei citava, che stanno immersi in questa trasformazione, mica la vedono, mica la vedono. Ma perché, scusate, posso leggervi una citazione? L'avete già capita benissimo questa cosa, un signore che io adoro, vi invito a leggerlo, perché di lì avrete molte idee. Si chiamava Lucrezio Caro, Dererum Natura, sulla natura delle cose. Duemila anni fa. Ed è, Lucrezio dice, Così, passo a passo, trascina il tempo quella stessa cosa che la ragione, poi conduce in zone luminose. Si capisce dopo cosa è successo. Si capisce molto dopo. Loro lo vivono, ma quando se ne accorgono il processo è finito. Il processo vede che è finito. E allora, questo ci invita, lo sto dicendo perché sta diventando un mio pallino. Giorgio Bocca, quell'articolo, lo fonda usando come criterio il raggiungimento del successo. Ma avrebbe dovuto usare un'altra categoria. Che senso ha il fallimento? Perché nel 64 è il fallimento che si viene a registrare. E non è forse più importante del successo il fallimento? Quante volte falliamo nella vita? Una quantità incredibile di volte. Io credo fondamentalmente che questo dovremmo cogliere di quel passaggio lì. Come dire, noi storici che abbiamo studiato il Novecento, poi abbiamo fatto, costretti, tirati per i capelli, a fare un manuale per le scuole di storia antica. Grazie, che me l'ha ricordato. Perché non è mica male, guardate. Uno che ha studiato tutto il Novecento, poi ti fanno fare il manuale di storia greca e romana. Cavolo. Quanta roba hanno loro da insegnare a noi? Tantissima, tantissima, tantissimo. Molto di più di quello che noi potremmo insegnare a loro. E abbiamo capito fondamentalmente una cosa, insomma. che le grandi trasformazioni... Io sono fermo a quello che dice all'identità delle trasformazioni, alla qualità delle trasformazioni, così come le ha individuata la Elisabeth Einstein, che ha studiato la stampa, la nascita della stampa. e le trasformazioni sono... lei parla di inavvertite. Arrivano, ti beccano qua, ma non te ne sei accorto. E mi piace soprattutto... lo ritengo quasi il mio padre spirituale recente, anche se è più giovane di me, ma mi fa rabbia questa roba. Adoro i quarantenni, i trentenni, che sono di una... quando sono bravi sono di una bravura. Dici, ma perché non sono bravo così anch'io? Eh, però, so qualcosa che vi ho insegnato. Che si chiama François Jullien, e lui parla di rivoluzioni silenziose. Beh, noi, storici del Novecento, che eravamo innamorati delle rivoluzioni a scombattuto, che sono chiassose, violente, abbiamo dovuto ricrederci e abbiamo scoperto che le vere rivoluzioni riguardano, per esempio, la lavatrice. La lavatrice ha cambiato il mondo e noi non ce ne siamo accorti. Io sto studiando, e me ne vanto, quella grande trasformazione che va sotto il nome di sessualità. Da come l'ho conosciuta io, bambino, a quello che sta succedendo, capite che c'è una gran voglia di imparare, solo di imparare culturalmente, non lo dicevo per cortesia. Penso che sì. Pogliamo tutte queste tappe che il professor Ballone ci ha fatto fare, e anche sollecitazioni di riflessione su quello che è il concetto di trasformazione, di rivoluzione, di cambiamento. E quindi al professor Balduzzi che ha studiato i distretti nella loro specificità e che è autore di uno, di uno, di uno, di altri, di questo testo, si chiama l'avventura dei distretti in cui c'è un'analisi specifica del caso in questo testo. In questo testo con una minuziosa analisi si incontrano diversi cambiamenti, diversi momenti di trasformazione. come da questi cambiamenti nascono criticità e opportunità e quali sono gli elementi che il territorio può cogliere e deve cogliere anche di lezione da quello che è già successo per evolversi, per cambiare, per andare avanti, per parlare di futuro. Grazie, grazie mille. E se non mi dica anche lei che la domanda va ribaltata perché se no ci rimane un'altra. No, scherzo. La domanda non la ribalto però chiedo la cortesia di fare una piccolissima premessa perché ci tengo a ringraziare per l'invito gli organizzatori e quindi ancora una volta di Cerell'Insalata e tutti gli altri organizzatori di questa iniziativa molto ricca, interessante e grazie anche alla presentazione del professor Roloni che mi ha un po' emozionato. In che senso? Perché io quando ho iniziato a studiare Vigevano ero all'inizio del mio percorso di dottorato di ricerca e io non sono uno storico come è già stato detto faccio molto più modestamente che sociologo e però avevo deciso di avventurarmi in questa impresa di ricostruire appunto nel lungo periodo l'evoluzione del distretto perché ero cognito che dal lungo periodo si potesse imparare così e quindi mi sono messo a fare un lavoro che non era mio cioè archivi e ho trovato tantissimo materiale proprio grazie alle molte pubblicazioni e alla documentazione ricchissima della società storica quindi io conosco molta bibliografia della società storica e il fatto che oggi il presidente della società storica abbia repercorso la mia bibliografia mi ha emozionato quindi grazie finita la premessa grazie e vengo alla alla domanda che chiaramente è una domanda impegnativa che è difficile diciamo gestire in pochi minuti ma ci troviamo e perché lo dicevo prima è il lungo periodo perché è il lungo periodo dal mio punto di vista è utile rispetto al tema dei distretti la dico in maniera molto semplice perché se noi ci fermiamo a breve periodo allora hanno ragione coloro che dicono i distretti sono morti semplicissimo se noi ci fermiamo a una lettura del fenomeno distruttuale del breve periodo soltanto legata a quel momento storico del dopoguerra eccetera è chiaro che quella transizione lì quel modello di sviluppo chiaramente è finito è terminato perché è finito il ciclo perché è cambiato il mondo per tutti i motivi che non sto a riprendere perché li sapete benissimo se noi invece guardiamo non a un modello di sviluppo che quindi è legato a una transizione storica a un insieme di coincidenze eccetera ma a una traiettoria quindi modello traiettoria no? concetti simili ma non uguali se noi guardiamo una traiettoria invece la faccenda cambia perché ci accorgiamo ad esempio di una cosa che io ho notato e cioè che non tutti i distretti si sono sviluppati nello stesso vero ad esempio il distretto di Vigevano quando Giorgio Bocca scriveva quel famigerato articolo era in una fase già di discesa della sua crescita stavano crescendo distretti calzaturieri in altre regioni in Toscana nelle Marche e invece Avigevano quella fase di crescita importante che c'era stata prima negli anni 30 e poi negli anni 50 era in un momento di discesa e sotto traccia quindi nascosta che nessuno se ne sono accorti dopo eccetera stava iniziando la nuova innovazione che ha consentito poi per altri due o tre decenni Arigevano di continuare a essere un'eccellenza produttiva nazionale cioè la meccanica trazionale allora se noi guardiamo nel lunghissimo periodo nella traiettoria di sviluppo noi vediamo che quindi c'è qualche cosa e questa è la tesi che io sostengo nel distretto non inteso come modello ma come traiettoria che va cercato altrove non in quelle caratteristiche stilizzate che negli anni 70 sono state un po' ipostatizzate quindi la specializzazione nello stesso settore le piccole imprese quelle caratteristiche stilizzate che sono ancora oggi per capirci i criteri con cui l'istat seleziona il distretto dice questo distretto questo non c'è dobbiamo andare un po' andiamo a guardare degli aspetti della traiettoria di sviluppo che vanno oltre queste caratteristiche perché in realtà queste caratteristiche sono cicliche vigevano non nasce come un territorio di piccola impresa quindi sarebbe fuori vigevano negli anni dell'ottocento non era affatto un territorio di piccola impresa era un territorio di grande impresa c'erano gli essitifici grandi e continua ad essere un territorio di grande impresa dopo una fase di frammentazione negli anni 20 negli anni 30 perché? perché c'è un ulteriore la gomma la gomma esige grandi imprese e quindi negli anni 30 le piccole imprese spariscono di nuovo e si crea di nuovo un territorio di grandi quindi vedete che queste caratteristiche della idea stilizzata del distretto sono caratteristiche cicliche che nel lungo periodo non tengono e quindi dove dobbiamo andare a cercare e chiudo questa prima parte dove dobbiamo andare a cercare le traiettorie di sviluppo e io propongo alcuni elementi e tra questi ci sono diciamo quella che io chiamo l'identità economica quindi il fatto di un legame e qui forse il genius logic c'entra qualcosa cosiddetto è un legame tra la speranza di sviluppo di una comunità locale cosiddetta la comunità locale perché anche il concetto di comunità è un concetto complicato lo sappiamo la speranza di sviluppo la speranza di benessere di una comunità locale e ciò che caratterizza un tessuto volutile questa che molti definiscono identità economica noi la troviamo nei distretti non la troviamo altrove anche se magari degli elementi di specializzazione ci sono ma non c'è l'identità economica non c'è quel riconoscere e questa identità e qui mi è piaciuto molto l'intervento di questo ballone quindi lo uso questa identità questa identità io la collego a un tema di memoria collettiva perché? perché questa identità non si forma nel mentre perché nel mentre non se ne accorge nessuno si forma dopo un certo po' di tempo la scarpa vigeva all'inizio negli anni 60 dell'800 io ho cercato capabilmente nell'archivio comunale e ho letto tutti i verbali dei consigli comunali non c'è traccia di discorsi sulla scarpa fino ai primi anni del 900 per 50 anni la scarpa è stata la novità economica che ha fatto la fortuna di questo territorio e non ne parlava nessuno il consiglio comunale ce ne si accorge dopo un po' di tempo lì ci sono anche dei motivi legati al fatto che i notabili della città erano gli imprenditori del settificio e invece i calzaturieri erano un po' fuori dalla vita politica e ce ne sono tutta una serie però la memoria crea l'identità perché appunto le trasformazioni sono mentre si vive invisibili molto bello ritorneremo su questo tema e lo ho applausi vi avrei castigato ora vediamo dal punto di vista dell'impresa Massimo Massimo Martinoli imprenditore calzaturiero titolare dell'azienda Cesare Martinoli Caimar che ha 80 anni e che produce quella che io chiamo eleganza non lui azienda eleganza e bellezza non sarebbe stato necessario no perché sentivo sentivo già il commento ora l'impresa che pure vive come dire nella sua quotidianità la necessità di far fronte ad una serie di contingenze specifiche degli aspetti economici degli aspetti di relazione con le risorse umane con gli operai e così via ma dando uno sguardo un po' più ampio quanto la storia del distretto quanto la storia del territorio ha inciso sulla capacità dell'impresa di evolversi e quali sono ancora i punti di forza del calzaturiero visto che tu qua rappresenti questo settore e ne abbiamo parlato per proiettarci appunto in un futuro Buonasera a tutti innanzitutto allora visto che si parla dei distretti il mio parere è che a Vigeone era un distretto prima ancora che si cominciassero a studiare i distretti io negli anni settanta all'università mi ricordo che c'erano due argomenti principali che si studiavano uno erano i distretti e l'altro quanto era Zumuris Beautiful cioè che la piccola azienda era la fortuna dell'Italia concetti che ora vanno molto rivisti forse anche come diceva il professore su certi punti anche che non esistono più perché a Vigeone era un distretto prima ancora che c'erano i distretti perché i vecchi quella generazione prima della mia raccontavano era che a Vigeone quando c'era il famoso modellista quello che disegnava le scarpe che adesso sono i grandi designer in quel tempo era un uomo di fabbrica che faceva dei disegni riusciva in una giornata raccogliere tutto riusciva a farsi il tacco farsi la forma farsi la tomaia farlo urlare al mattino usciva con l'idea alla sera già la scarpa finita perché inconsciamente c'era quel distretto che l'uscito dalla porta trovava tutto quello dove aveva bisogno poi con l'evoluzione degli anni molte cose sono venute a mancare a questo punto mi viene sempre da ricordare una famosa frase da chi ha conosciuto Torino Bossi che era un grande preditore un germanese che diceva sempre dire l'industria di massa calzaturiera è un treno che viaggia verso la povertà nel senso che occorre tanto mano d'opera e l'industria si è sposta da una mano d'opera costa meno quello è stato appunto il primo caso negli anni 60 primi anni 70 quando il primo click della storia di Vigevano quando le aziende hanno cominciato ad andare in crisi perché entravano nuove zone prima d'Italia vedi Toscana vedi Marca vedi Veneto dove costava molto meno e l'industria di Vigevano si sono trovati a inseguire questi nuovi industriali nuovi imprenditori quelli andavano all'estero con prezzi e l'attamente inferiori quindi si è creato un panico e parlo sempre della generazione decedente alla mia la scelta era o faccio pagare di meno la scarpa oppure inseguo la qualità e non me ne frego del prezzo coloro che hanno fatto la prima scelta quasi tutti sono spariti perché non hanno potuto sostenere perché poi dopo i toscani marchigiani sono arrivati quelli dell'Europa dell'est e poi il fareste che ha distrutto tutto mentre fortunatamente il mio padre ha fatto la scelta della qualità e siamo per le aziende che ancora oggi esistono e questo è un po' la storia diciamo di Vigevano quanto è inciso il distretto il distretto diciamo che per tutto quello che è esistito dell'industria anche oggi e anche per la meccanica se non c'era un distretto cioè c'era uno substrato di cultura dove si potrebbe trovare tutto dove la gente chiunque Vigevano che parlasse che Vigevano sapeva qualcosa di scarpe Vigevano non poteva essere quello che è stato perché ho vissuto in quegli anni le vie cittadine erano brulicare piccoli artigiani piccoli laboratori dove si sentiva i martelli le frese insomma era tutta una cosa completamente diversa da oggi oggi diciamo che con le moderne tecnologie quindi la trasmissione dei dati via telematica i trasporti ultraveloci e quant'altro c'è meno questa esigenza del distretto sul luogo perché infatti i fornifici Vigevano penso che non esistono più tachifici neanche concerie neanche ci sono dei meccanici che sono loro coloro che sostengono l'economia Vigevanese poi c'è ancora qualche fabbrica di scarpe e noi però calzaturieri viviamo ancora ci serve una parte di quel distretto rimasto che sono piccoli laboratori artigiani soprattutto trancerie e giunterie che sono quelle che ci permettono di fare le lavorazioni vicino anche se non sarebbe difficile oggi giorno andarle a urlare lontano come fa qualcuno di zone di Vigevano e anche zone vicino quindi il discorso quello del distretto ho forse prima ho sentito dire che i distretti sono morti non sono proprio morti però non c'è più quel distretto che abbiamo studiato negli anni 70 e non è più necessario che esista perché oggi dall'America arriva il disegno viene messo in car viene trasmesso via file a uno che magari è al formificio che è in Toscana al tacchificio che è nel Veneto c'è un giro che nello stesso giorno in un giorno come facevano un tempo la generazione prima oggi lo facciamo però lavorando contemporaneamente a Stati Uniti Marche Toscana Veneto Francia con lo stesso tempo anzi anche più veloce quindi c'è un elemento di innovazione che si è inserito assolutamente e di trasformazione delle relazioni della rete quindi da distretto a rete e quindi un po' una rete che va oltre la territorialità non è sul luogo esatto però qui c'è rimasto un impregnante di quella cultura calzaturiera che ci permette ancora oggi di andare avanti e che ha permesso anche lo sviluppo dell'industria meccanica che è importantissima e poi tornando al discorso di San Professore la cosa da notare è che l'industria calzaturiera soprattutto gli imprenditori che erano tutti operai quasi tutti operai erano operai che si sono messi a fare la loro piccola azienda e vogliamo dimastronare quello che si è fatto di Alberto Sordi perché lui era un maestro però la moglie era un'operaia che voleva fare la sua fabbrichetta era cognata era cognata esatto sì sì e quindi dopo di vista sociologico Vigevano è nata su una forza operaia che è diventata imprenditrice professor Ballone questa metamorfosi dei applausi abbiamo parlato di modelli traiettorie trasformazioni metamorfosi quasi di modelli industriali se noi dovessimo in qualche modo definire i contorni del modello che oggi rispetto alla storia si deve in qualche modo replicare o comunque innovare definire quale dovremmo prendere domande sempre belluriche tra un po' mi taglio bene non lo so perché ovviamente se lo sapessi sarei molto ricco e probabilmente in questo momento o sarei qua seduto lì o starei ancora sulla spiaggia dei conigli a Lampedusa che è decisamente meglio che qua e non lo so davvero non lo so e io sto ragionando un po' per paradossi il ragionamento che facevo era per paradossi e quello che mi viene in mente più facilmente è che in realtà i distretti tutta questa cultura sta dentro una cosa che si chiama impresa e sta dentro una società che si chiama capitalistica che vive sul lavoro della fabbrica lavoro industriale e però scusate il mio giudizio per essere molto drastico siamo alla fine è la morte è la morte di questo modello di società e se voi mi dite e la re ma non è possibile l'umanità l'umanità ha usato il modello industriale per 200 massimo 300 anni per il resto ha sopravvissuto benissimo senza il modello industriale e anche bene se vuole vi faccio degli esempi dove la società è vissuta benissimo benissimo stiamo finalmente cominciando a studiare le cose nuove vi cito solo il nome di un signore che io adoro alla follia purtroppo è morto si chiama Greber David Greber grande antropologo anche lui vi invita a leggere il libro appena uscito l'alba di tutto scardina esattamente le idee che noi abbiamo la società romana viveva benissimo senza industria pan e met circenses ma era una cultura molto complicata e molto complessa insomma certo c'era una schiavitù però scusate io sto scrivendo una cosa proprio su questo visto che stiamo citando i libri vi invito a leggere Sandia Hartman Perdi la madre lei è una afroamericana che viene da una famiglia di schiavi e torna in Costa d'Avorio nelle sue radici Costa d'Avorio a Ghana nelle sue radici e scusate noi ci siamo dimenticati che la ricchezza dell'Inghilterra viene per l'80% dalla schiavitù ci siamo dimenticati del capitalismo di rapina dell'imperialismo di rapina della Spagna e del Portogallo ci siamo dimenticati dell'imperialismo fintamente integrativo della Francia ma per 500 anni siamo vissuti sulla schiavitù so di dire una mezza eresia però siamo scandalizzati e giustamente da quello che ha fatto il regime nazista soprattutto nei confronti di 6 milioni di ebrei ma noi abbiamo fatto fuori 50 milioni di neri 50 milioni di neri e ci arrabbiamo perché arrivano a Lampedusa dovrebbero arrivare qua stasera e dire ma perché ma perché ci siamo dimenticati di quello che abbiamo fatto in quelli che oggi si chiamano gli Stati Uniti d'America sterminati 14 milioni di indiani allora certo il nostro modello è stato vincente ma a che prezzo a che prezzo siamo tutti ricchi ma a che prezzo sulla pelle degli altri non lo so io davvero non so qual è il modello vincente spero sia quello mi sono trovato l'Ambedusa mentre arrivavano 6.000 7.000 10.000 persone sui balconi mi è venuto da piangere e ho detto spero che il modello vincente sia il loro allora mi sembra che ci stiamo addentrando in una situazione veramente profonda che va oltre insomma che va in una traiettoria del sociale e del ma non possiamo fermarci professor Balduzzi alla demonizzazione del modello di impresa Giovanni deve venire non possiamo accettare passivamente la provocazione del professore sul tema della utilità o meno del modello di impresa inteso dal punto di vista generale la storia al di là quello che abbiamo giustamente sentito ci porta ad salvare un patrimonio di cultura che viene dall'impresa che è fatta di risorse umane non è fatta semplicemente di atteggiamento utilitaristico è fatta di persone che con passione da una parte investono e dall'altra mettono il proprio lavoro insomma a servizio della comunità quindi questo concetto di cultura di impresa deve andare al di là del concetto di nero capitalismo o atteggiamento di sfruttamento della risorsa umana si scherzando col con il suo ballone qui devo fare l'avvocato del diavolo nel senso che non possiamo fermarci la demonizzazione e mi hanno interrogato per me diciamo parlare di cultura di impresa in generale in Italia ma in particolare in territori come quello di Gevanese che sono stati attraversati sono ancora attraversati dalle traiettorie distruttuali quindi qui rispondo io non ho detto e non direi mai che sono morti i distretti ho scritto un libro per dire il contrario e quando prima parlavo io citavo altri colleghi che sostengono questa tesi sono vivi nella traiettoria non nel modello perché il modello come dicevo è un modello che risente di quegli anni 70 che citava prima il dottor Mattinoni quindi parlare di cultura di impresa in territori in generale in Italia ma soprattutto in territori che sono stati attraversati dalla traiettoria dello sviluppo distrettuale significa parlare anche di cultura del territorio c'è una circolarità dal mio punto di vista dalla cultura dell'impresa e la cultura del territorio perché perché la cultura del territorio come dicevo prima risente di quei processi di identificata economica quindi di identificazione tra la popolazione locale e quella speranza di sviluppo di benessere rappresentata dal distretto inteso come identificarsi in un prodotto in un saper fare in un contesto di produzione e quindi la cultura del territorio è influenzata da questa cultura di impresa e la cultura di impresa è influenzata da questa cultura di territorio c'è una circolarità tra la cultura di impresa e la cultura del territorio e in questa circolarità dal mio punto di vista si smentisce la vecchia idea di innovazione di Joseph Schumpeter se voi avete presente uno dei massimi teorici dell'innovazione lui sostiene che l'imprenditore l'innovatore è colui che sa vincere le resistenze del contesto c'è un contesto che è contrario all'innovazione e l'innovatore combatte queste resistenze in territori di impresa come quello in cui siamo oggi questo viene smentito a queste idee perché il territorio è un territorio favorevole all'innovazione veniva citato prima il rapporto tra le aziende della meccanica calzaturiera e le aziende calzaturiere io nel libro sostengo che quello non è un altro distretto come ha scritto qualcuno è lo stesso distretto perché non soltanto quando ai primordi della meccanica calzaturiera c'erano le aziende che prendevano gratis le macchine per testarle ma anche quando io sono venuto qui a studiare questo distretto nel 2012 c'era ancora questa abitudine e grazie di questo aggiornamento in diretta che mi conforta ecco quindi un contesto che in cui l'imprenditore innovatore non deve combattere contro una società che contrasta l'innovazione ma si trova dentro a un contesto di innovazione e siamo qui in questa scuola e qui c'è un c'è stato qui uno dei personaggi che hanno fatto questa storia di impresa e di innovazione una storia come ricordava il dottor Martinoni che ha visto gli operai ma non soltanto negli anni più recenti io ho trovato un documento della Camera del Lavoro quella che era prima della CGL nel 1919 dove già si diceva polemicamente perché erano i sindacati che noi non riusciamo a fare brezza sui laboratori perché c'è la proprietaria o mania vogliono fare tutti gli imprenditori vogliono passare tutti dall'altra sponda 1919 1919 quindi qui in questa scuola dicevo ha insegnato per tanti anni uno dei personaggi che è stato protagonista di questa storia di impresa di innovazione operaria che è il professor Minola e questo mi viene mi favolisce nel dire un'altra vi ho detto prima questa traiettoria dei distretti l'identità economica un'altra delle caratteristiche secondo me che caratterizzano la traiettoria è la formazione l'istruzione perché non è vero quello che qualcuno ha detto cioè che avvigevano in altri distretti la vera scuola e l'impresa non è così e Minola la vicenda di Minola è la dimostrazione Minola insegnava con Carli e aveva un'azienda di meccano perzaturiera una delle prime che sono nate lui naturalmente i migliori studenti che facevano la scuola con lui se li portava poi a lavorare in azienda e dopo qualche anno siccome erano bravi ed erano cresciuti con un bravo maestro si mettevano in propria e molte delle aziende meccano perzaturiera sono nate in questo modo quindi è vero che c'era la scuola dell'impresa ma c'era anche la scuola come Rocalli dove lui insegnava che in una logica anche qui di circolarità favoriva questo circolo virtuoso non so se l'ho fatta per colunga no no molto interessante questo perché ci introduce in un altro ancora argomento formazione dicevamo prima abbiamo qua degli studenti formazione siamo in un luogo è stato appunto come ha detto il professore il luogo per eccellenza dell'istruzione anche tecnica che è stata importantissima per questa città e per le sue trasformazioni io vorrei sapere dal dottor Martinoli posto l'asse due cose uno questa proprietaria proprietario mania proprietario mania oggi i dati del sole 24 ore ci dicono l'abbiamo sentito anche in alcune delle conferenze che i giovani non vogliono avere leadership quindi rifuggono al ruolo di responsabilità tanto meno all'interesse di essere imprenditori o capi quindi già questo è uno dei temi massimo come i giovani approcciano al mondo del lavoro e si avvicinano anche al mondo dell'impresa l'altro è il tema che io chiamo dell'inclusione generazionale perché non mi piace parlare di ricambio ricambio sembra che dobbiamo dismettere un qualcosa l'inclusione è un processo che ad esempio voi in azienda avete fatto tu stesso sei stato protagonista di un primo di una prima generazione e oggi hai in azienda tua figlia quindi questi passaggi come si inseriscono nel tema dell'innovazione e nel tema del processo di crescita e di futuro della cultura di impresa di trasferimento di quella cultura di impresa la fabbrica in cui sei entrato tu non è quella in cui è entrata la tua figlia evidentemente qual è il cambiamento che si continua ogni giorno a vedere grazie a questo processo di formazione di cui abbiamo appena detto domanda domanda di un milione di dollari perché l'evoluzione economica finanziaria soprattutto in questi anni ci ha portato che le aziende tipiche tipo queste nostre le giovanese ma anche i calzatori e le regioni in Italia ormai stanno subendo l'assalto e l'integrazione da parte dei grandi gruppi soprattutto perché produce per la moda quindi il fatto generazionale è un argomento abbastanza delicato e difficile anche non saprei come spiegarlo forse nasce dalla passione in quanto famiglia da noi io sono lavorato per l'economia però sono stato in fabbrica fin da quando avevo i calzoni corti e quindi avevo questa cosa nel mio sangue spero l'ho trasmesso anche ai miei figli e spero che loro possano continuare però mi rendo conto che non so quanto sarà possibile in futuro quanto sarà facile in quanto ma siamo subentrati in un gioco finanziario che non so per quanto tempo riusciremo tutti a sostenere quindi su questo però vorrei riprendere un altro buon argomento che mi sta molto a cuore perché mi sono toccato un nervo scoperto che mi prendo moltissimo la formazione perché vigevano a due grossi problemi uno quello della formazione perché non è più il tempo di faccio l'esperto tecnico in fabbrica che costruisco di correre una scuola di formazione che vigevano in tanti anni non siamo riusciti a fare soprattutto non per mancanza di fondi non per mancanza di volontà le cose perché mancano i ragazzi che vogliono venire a imparare a fare i tecnici delle scarpe che non dico fare la tagliatrice cioè l'operaio fare il tecnico della scarpa quindi c'è una scuola di formazione che insegna ai ragazzi una cultura della scarpa tecnica poi chi è bravo andrà a fare il direttore di fabbrica chi è meno bravo andrà a fare l'operaio però quanto meno c'è una cultura della scarpa che oggi manca ed è un errore scoperto ma non solo di Vigero perché anche c'è una zona d'Italia dove riescono a farla bene che è nel Veneto con la Politecnica della Calzatura ma lì sono tantissime fabbriche hanno una grande volontà non hanno anche la concorrenza di città come Milano che portano via molti giovani che sono più attirati della grande città però la formazione è la cosa più necessaria perché senza quello siamo destinati avrebbero grossissimi problemi in un prossimo futuro l'altro problema e lo accenno perché Vigero non si possa sviluppare rispetto a altre zone che sono le infrastrutture Vigero si è tagliati fuori dal mondo mi domando sempre perché una città come Paraviago che è grande un terzo di Vigero che non ha le infrastrutture che ha Vigero da un punto di vista economico quindi non ha industrie meccaniche non ha tutto quella rete tra digiunterie e trancerie infatti loro vengono a Vigero però loro si sono sviluppati grandi gruppi si sono trasferiti là c'è solo un motivo 20 minuti arrivano al centro di Milano arrivano a Paraviago Vigero ci mettono un'ora e mezzo magari anche due quando c'è traffico quindi questo è l'altro argomento se è troppo ampio se ne è parlato tantissimo non so sentivo parlarne quando ero anzi ho scoperto unendo vecchi archivi di mio padre c'era un informatore di Giovanese del 1971 mi sembra se ricordo bene c'era l'architetto Savini mai defunto l'architetto Savini che spiegava al consiglio comunale il progetto della strada che presto avrebbe congiunto vigevolo a Milano con grande sviluppo per l'economia di Giovanese 1971 siamo nel 2023 non si viste anche un metro insomma ogni dieci anni se tu vede a vendere a casa un numero degli informatori c'è lo stesso argomento non c'era ancora il videnziatore con il matitino ho scritto 1971 ecco questo è l'altro grosso problema tu mi dicevi del cambio ecco che oggi mi dicevo quante nuove generazioni sono subentrate in azienda chi si io ho tre mi vengo in mente noi ci conosciamo e altri hanno lasciato perché sono più attirati forse da un'attività manageriale ma forse non è anche male perché tanto prima o poi arrivano grandi gruppi ad assorbire il tessuto quindi non so neanche fino a che punto questo servale non è ma noi dobbiamo custodire questo concetto di cultura dell'impresa per poter dare continuità a questa memoria a questa traiettoria la traiettoria non la cultura non voglio farlo storico visto che però nel DNA di Gevanese c'è questa cultura di impresa perché se andiamo indietro fino agli anni 1000 arrivando fino all'evoluzione ultima della meccanica siamo partiti dalla lana alla seta al cotone sempre evolute secondo di tempo secondo delle esigenze perché facendo concorrenza facendo noi cinesi di Milano perché abbiamo portato via il lavoro ma Milano dovevamo costar troppo lo facevamo noi di Gevanese quindi mille passani che dicevano a questa cultura di impresa che si è tramandata poi si è un po' arenata ci salgono in quale devo citare lui perché forse la più grande industria italiana mercano forse mondiale anche mercano calzatoriera siete i primi al mondo forse esatto i primi al mondo quindi cito sempre lui perché lo conosce ci siamo arenati per il motivo che dicevo prima sono mancate le infrastrutture perché non abbiamo potuto andare oltre cioè una volta che loro si sono sviluppati non potevano venire altre imprese altre aziende altri settori non sono venuti perché non ci sono le infrastrutture per farlo e qui purtroppo colpa nostra di Gevanese imprenditori politici di tutte le generazioni perché qui devono andare indietro tra gli anni sessanta non voglio accusare le pubblicità di adesso le quelle di ieri anche quelle dell'altro ieri e del post ieri perché non si è mai fatto nulla prima si parlava dello sviluppo avvigevano in piena evoluzione industriale ovvero negli anni stava già finendo quando c'era bisogno di investire anni settanta non c'era un'area industriale c'erano quegli eroi forse anche la vostra azienda che siete andati a farvi voi le opere di urbanizzazione in una zona deserta senza nessun aiuto da parte del comune perché c'erano di spandere le aziende non c'era una zona industriale e la politica non ci ha mai aiutato a fare delle zone noi stessi quando ci siamo trasferiti dal centro per provare per stare in centro per andare fuori non dico le peripezie che vi ha fatto chiedere in ginocchio per avere il permesso di costruire in una zona appena fuori di Gevanese nel confine si vigevano perché non c'era questa cultura quindi si parlava anche del comune di Giorno che nel 1900 non parlava mai di calzature eh ma non è che è cambiato molto anche al fine del novecento eh quindi il problema è anche quello Professor Ballone cosa coglie dalle parole di Martinoli e di Erichitta sono innamorato di quello che sta dicendo ma che ci sta dicendo sostanzialmente è che vigevano il sud del nord e non è mica male con l'idea voi vi credevate da essere chissà dove siete il sud e faranno prima il ponte sullo stretto di Messina dell'autostrada che vi porta al centro di Milano cosa che io che abito a Milano dico meno male poi se arrivano pure i vigeanesi con l'autostrada io non ci arrivo più già ci ho messo un'ora e mezza oggi e no delle cose che lui dice dottor Martignore io sono davvero affascinato perché si aprono dei mondi ci sono anche delle conferme io mi ricordo una serata in cui ho rovinato una serata di di Michele l'insalata perché sostegni esattamente il principio che la cosa che mancava di più a vigeano era una consapevolezza politica ma da sempre manca un ceto politico in grado di reggere i fallimenti e c'è un ceto politico scusate c'è sempre stato un ceto politico di basso profilo e neanche quello che io considero forse uno dei migliori sindaci suel Sogliano poi anche lui ha avuto parecchi difetti una delle cose che diceva Martignore è estremamente affascinante ma questo è la natura vera per così dire della cultura del distretto è questo l'errore che fa secondo me uno degli errori che fa Giorgio Bocca è un incipit straordinario di quell'articolo favoloso ma sbagliato sbagliato nell'intimo perché quelli che i soggetti a cui lui si riferisce secondo me non hanno come spinta motorice fare soldi per fare soldi per fare soldi ne hanno un'altra lavorare 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 e possibilmente lavorare con le mani perché le mani la manualità la trasformazione il riuscire a produrre io mi ricordo mio cugino quando si riempiva ma sto parlando di sala del romanzo di 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 Mastronardi anche si riempiva la bocca di Chiodini e e alla sera quando aveva finito la scarpa non mi diceva questa scarpa vale 3000 lire mi diceva guarda è una perfezione e questo era un orgoglio che badate io studiando visevano fevo già mi confermava quello che avevo scoperto con uomini fabbrica e potere operai della fiat pre fordista che hanno esattamente questo il battilastra e che gli davano e io ne ho intervistato più di uno al battilastra fiat fiat davano una lastra e gli dicevano devi fare il cofano dell'auto e il suo strumento principe era il martello pubum 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 voi immaginatevi un reparto con cento battilastre diventi soldo pazzo dopo di che loro mi hanno insegnato quali erano i trucchi ed erano diventati così bravi che uno dei battilastre che io ho intervistato tutto orgoglioso mi ha detto guarda io sono di una bravura oramai sono diventato così bravo presi un foglio di carta e gli dice questo 0,0 millimetri cioè questi misuravano con i polpastrell e questo era il loro orgoglio e io trovo che questo orgoglio è lo stesso che ho trovato esaltato da Mastro Nardi qui e quando lui dice il maestro è un lavoro da cani non va fatto è perché lo paragona al lavoro operaio e scopre che il lavoro operaio in realtà è un'altra cosa è fatto di grande intelligenza è fatto di grande questo è un grande insegnamento scusate è un grande insegnamento che ci viene perché noi continuiamo a insegnare filosofia dicendo Platone le idee ma dove mai ma dove mai la prima filosofia il primo filosofo che abbiamo in Grecia si chiama Talete che non era un filosofo era un tecnico un detto con il linguaggio di oggi un geometra qualche geometra oggi gli si accapponare la pelle pensare a una cosa del genere e lui anche Montale era un ragioniere anche Montale ma il ragioniere già aveva a che fare con qualcosa di spirituale i numeri lui doveva misurare il porto il pireo come funzionava come far arrivare le navi e come non farle stare lì dentro beh scusate questo è importante vi ho citato mi viene in mente la cosa così ma era giusto per chiudere perché la mia grande passione per la cultura operaia popolare che è quella che fa da substrato a tutto quanto perché Grebel per esempio racconta una cosa straordinaria a fare un ciclo di conferenze a Parigi dieci anni quindici anni prima della rivoluzione francese è un signore che si chiama Gondiarong e sapete chi è? è un capo il nome vuol dire l'utopo muschiato era uno statista Wendat che le famose cinque nazioni indiane attorno a dove adesso c'è il Canada e questo signore si era arruolato nell'esercito francese i francesi gli hanno inserato il francese e l'hanno portato a Parigi quindi venne a vedere quanto siamo bravi lui gira a Parigi sia falantropologo per così dire di Parigi ma questa è la vostra cultura questo è il vostro modo di fare ma non sia mai noi là abbiamo una cosa bla 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 è la snocciola e nessuno sa come chiamarla era la democrazia e sapete chi è che segue regolarmente tutte 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 le sue conferenze un signore che si chiama Emil Poussot e capite alcune idee dove le ha prese io credo che forse è arrivato il momento di rovesciare le frittate cominciare anche andare a chiedere a chi usa le mani quando ero mi sono trovato al ministero a lavorare per 10 anni al ministero a cercare di riformare la sua media superiore in Italia è impossibile e una delle proposte che feci era ovviamente quasi saccagnato una delle proposte è fin ma perché facciamo l'esame con il professore che interroga gli allievi rovesciamo l'esame gli allievi vengono e interrogano il professore e in base alle domande noi decidiamo qual è il livello di cultura di apprendimento di intelligenza e decidiamo se il professore lo sa non l'ho detto io questo lo dice un signore che si chiama questo che sto per dire lo dice un signore che si chiama Salvemini contro l'esame di stato l'esame di maturità Salvemini dice ma perché facciamo fare una roba del genere dove il 98% dei professori non è in grado di rispondere alle domande degli altri professori io per primo quante volte ho fatto il presidente e mi sono voi non avete idea quando ho fatto il presidente a Novara nell'istituto di corrispondenti lingue estere e queste qua queste ragazze parlavano cinque lingue e io dovevo far finta di averle capite grazie grazie professore andiamo verso un paio d'ore ma l'ora è già tarda che messaggio vogliamo dare in questa chiusura di serata ma allora tre tre flash il primo lo voglio spendere sulla questione delle infrastrutture dei collegamenti perché mentre sentivo parlare il dottor Martinoli il mio animus di Alessandrino rileggeva il tutto nella nella lingua Alessandrina perché come è stato osservato io mi chiamo Banduzzi ma anche la R mi tradisce insomma nonostante insegni all'università di Salerno vivo sono nato cresciuto e vivo tuttora ad Alessandria e Alessandria fino a qualche decennio fa era un polo logistico nazionale avevamo una stazione che era collegata con le principali città italiane insomma poi a un certo punto è arrivata l'alta velocità e Alessandria se ne è bellamente bevuta in un cocktail e adesso abbiamo un'immensa stazione mi dicono qualcuno mi dice un quarto qualcuno mi dice di più in gran parte in disuso non sanno che cosa fare binari morti che non si sa che cosa fare noi io stesso quando devo andare a Salerno l'unica possibilità è che intercity di notte ci mettono in 12 ore l'alternativa sarebbe andare a prendere la velocità a Milano ma è comunque complicato non si riesce ad andare da nessuna parte ho scoperto che Vercelli 35 minuti in auto da Alessandria Vercelli ha tutti i giorni un treno che va a Parigi ma non c'è un treno che va da Alessandria cioè si arriva a Vigevano si arriva a Vigevano e poi si prosegue avventurosamente anche questo a Milano con la famosa tratta che conoscete molto bene il famoso treno che all'incontrario va esattamente esattamente ecco quindi la mia battuta su questa questione è che appunto le infrastrutture da sempre non è una novità da sempre creano una gerarchia dei territori quindi le rivoluzioni anche logistiche e infrastrutturali e le scelte che ci stanno dietro creano una gerarchia dei territori e siamo messi male come Vigevano e come Alessandria in questa odierna attuale trasformazione logistica è chiaro che dobbiamo trovare delle modalità per reagire a questa situazione e individuare delle modalità per andare oltre e far valere anche le esigenze di collegamento di comunicazione e questo mi porta al secondo flash il secondo flash riguarda appunto le scelte collettive no? le scelte collettive le fanno le istituzioni ma non le fanno solo le istituzioni e anzi a volte le istituzioni sono costrette a farle perché altri attori si 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 mettono no? e da questo punto di vista un esempio che io porto sempre anche fuori da Vigevano e quindi mi piace portarlo qui è proprio il modo con cui è nata la fiera di Vigevano la fiera di Vigevano non è nata per iniziativa del comune non mi stupirò nel dirvi questo ecco è nata per iniziativa di alcuni soggetti tra questi c'era un certo monsignore che ci dà anche Mastonardi anche se gli cambia il nome ma è lui e quindi la chiesa in qualche modo insomma ha avuto un ruolo questo monsignore in particolare ma la chiesa in generale le associazioni di categoria degli degli imprenditori la società civile il terzo settore di allora no? le associazioni hanno avuto questa iniziativa e a un certo punto questa iniziativa è stata così importante così grossa così rilevante ha mobilitato così tanto la comunità c'erano persone che facevano sottoscrizioni si mettevano i soldi loro per fare la fiera che il comune a un certo punto ha dovuto diciamo mettersi la sua parte e poi a un certo punto ovviamente ha fatto quello che deve fare il comune cioè ci ha messo quel cappello quindi poi se ne è appropriato è diventata la fiera del comune e questo poi tra l'altro ha consentito il riconoscimento nazionale e tutto quello che succederà allora questa piccola storia di Zevanese che io porto come esempio anche fuori si dice che le scelte collettive non sono sempre un'iniziativa delle istituzioni e quindi non dobbiamo a mio avviso pensare che il successo dei territori dipenda soltanto dalle scelte della politica dipende dalle scelte collettive che sono fatte diciamo da vari attori che fanno una politica locale e non ci sono solo tra queste le istituzioni ma le istituzioni quando degli attori locali hanno la forza di portare avanti delle scelte sono poi in qualche modo costrette a doverle gestire il terzo flash lo voglio spendere su su quello che in qualche modo a mio avviso tornando in una visione più generale è il futuro il futuro di quelli che appunto oggi abbiamo chiamato distretti ma che nella mia idea sono le traiettorie di sviluppo di sviluppo distruttuale e ovviamente c'è di mezzo il covid nel senso che c'è stata una cesura c'è stata una cesura importante io l'ho vista nella ricerca su Alessandria che è stata citata prima il covid ha trasformato ha trasformato tutti i territori il covid è stato un fatto globale ma anche un fatto locale perché non tutti i territori hanno reagito nello stesso modo non in tutti i territori la pandemia si è abbattuta nello stesso modo e se noi andiamo a studiare i motivi per cui in alcuni territori la pandemia si è abbattuta di più non ci troviamo solo delle cause biologiche mediche sanitarie ci troviamo anche delle cause sociali economiche ambientali in certi territori si sono stati più morti per una serie di ragioni ambientali sociali economiche gestionali organizzativi modo con cui le istituzioni non solo le istituzioni locali ma le asle gli ospedali hanno gestito quindi ha messo alla prova i territori in modo diverso e quindi il covid a mio avviso ha smascherato ha rivelato che il mondo non è piatto che la globalizzazione non significa appiattimento non significa omologazione che i territori contano ancora che i territori ancora fanno la differenza e qui c'è una grande occasione per i distretti perché i distretti sono territori dove come dicevo prima ci sono delle forze sociali culturali di identità di comunità che possono dare delle risposte differenti vi faccio un esempio Casale Monferrato Casale Monferrato in piena pandemia hanno detto ma noi qui da sempre facciamo i frigoriferi ma per portare i vaccini ci vuole meno 80 gradi in giro e si sono messi a fare dei camion con i frigoriferi e si sono inseriti in quella una roba del genere è tipica di un territorio vitale di un territorio innovativo di un territorio che ha una visione di innovazione e quindi dove l'innovatore non è solo ma è in una comunità ecco quindi io credo che proprio la pandemia proprio l'evento più globale di tutti ci ha spiegato ci ha raccontato e ci ha ricordato come ancora il territorio e i territori hanno questo grazie e che dobbiamo credo continuare ad alimentare queste virtuosità che i territori hanno per rendere essere attrattivi da parte dei convolti dei giovani che devono in qualche modo ritrovare uno spazio all'interno del sistema industriale e per diventare anche una nuova cosa un nuovo modo di essere impresa e di alimentare la cultura e l'impresa io ringrazio e lascio la parola al Presidente per le conclusioni di questa animata sera ha toccato un argomento che molti i giovani non conoscono parliamo della fiera la fiera però venuti in quegli anni pubblicatoriamente fu ceduta a Milano perché l'idea non c'era possibilità però la lucideranza dell'imprenditore di quel tempo fu venduta a un prezzo a un prezzo ovvero che doveva nascere il centro italiano di ricerca tecnologia e analisi che è il CIMAC e fu richiesto che in cambio di cedere la fiera il CIMAC avessi avuto sedia a Vigevolo da allora tuttora il CIMAC ha sedia a Vigevolo pochi vigevanesi lo conoscono però in realtà è il centro unico nazionale di ricerca certificazione e analisi ma questo a parte che ha lavorato moltissimo non con i vigevanesi fuori di giro però può diventare importantissimo per il futuro vediamo che è un'altra di ottimismo alla fine di tutto questo esatto parliamo anche di innovazione perché il CIMAC è la base della a parte sul prodotto la qualità il servizio che sono sempre stati necessari sulla sostenibilità la sostenibilità non solo ecologica che è facile da dire usare materiali più ecologici quindi con magari colli con meno neoprene colli ad acqua o per lame trattati senza metane pesanti e quant'altro ma anche sostenibilità sociale e questo sottiene solo con un lavoro anche di ricerca di certificazione che la certificazione è indispensabile per poter si presentare al mondo e questo l'abbiamo qua a Vigevano quindi a Vigevano abbiamo questo che io spero anche unito a una possibile formazione è una cosa unica che nessuno in Italia ha proprio per chiudere una piccola cosa visto che parliamo di Vigevano anni fa un mio cliente americano che veniva sempre già molto velocemente una volta sono riuscito a portarlo a pranzo in piazza questo è visto la piazza di colpo ho detto ma Vigevano è uno schifo perché vedevano c'è l'ombrazione e tutto sono vedute lì dietro sono praticamente dopo mezz'ora più che erano lì che fotografavano andiamo a mangiare però sono tornati dopo qualche settimana mi chiamano e mi chiamano possiamo mandare una truppa un grosso cliente americano una truppa e vogliono fare una promo improntata su Vigevano ha fatto questo video che hanno scaricato su tutti i social e tutto ma hanno finito con una frase finale del presidente della società adesso lo leggo in italiano e nell'inglese dice quando sei circondato dalla bellezza e dall'arte non puoi fare nient'altro che creare qualcosa di meraviglioso questo è il referito di Vigevano questo è un bel messaggio di tristura di Vigevano Dottor Corroni a lei ma io a dire la verità dovrei fare una conferenza questo però penso che i relatori e tu siete stati così bravi che ci sia poco da dire se non alcune annotazioni rossombrarduzzi dice che ti distretti quando ci sono quando funzioni e quando una città come Vigevano tira e nessuno se ne accorge se non per il benessere e solo quando è passato o passi ad un altro modello di sviluppo tu capisci o chi è dentro capisce che in qualche modo c'è una innovazione un passaggio più che qualitativo anche di genere diciamo così pur essendo il distretto dell'industria meccanica fortemente legato allo stridurgo dell'artigianato o della prezzatura ovviamente e questo è stato uno spunto notevole per me il Dottor Martinoli poi dice un'altra cosa che sembra ovvia ma dice a un certo punto l'industria la zaturiera a Viseone è stato un bid o riusciamo a produrre delle scarte come in Cina o come si producevano in India cioè a bassissimo prezzo ma abbiamo delle persone delle nazioni o dei subcontinenti più bravi a produrre ad un prezzo minore o ci mettiamo a fare una perzzatura qualificata di classe da export da museo e questa è un'altra cosa che sembra ovvia ma qualcuno ha deciso per il bene altri sono andati sotto il professor Ballone mi ha in parte stupito per aver capito da un punto di vista storico visto in chiave umanistica che l'economia e la schiavitù erano fortemente collegate alla fine l'ha riconosciuto cioè tutta l'antichità è basata sulla schiavitù e quindi per arrivare a dei modelli non schiavistici chiaramente ma insomma sfruttatori di altre popolazioni di immigrati oppure in blocco sul loro continente come gli inglesi sono diventati il popolo più sportivo e più con tempo libero di tutti gli altri popoli del mondo e ci sarà una giustificazione e quindi questo non è una giustificazione da un punto di vista dello sfruttamento dell'uomo ma è comunque un'annotazione storica con cui noi abbiamo entrato a fare i conti quindi la grande cultura la grande civiltà romana era perché durante le guerre si facevano degli schiavi si cercava anche di non uccidere i nemici ma di tenerli buoni per metterli a lavorare questa è sempre la soluzione con una differenza fondamentale tra loro e gli inglesi si che i romani valorizzano gli schiavi gli inglesi li ammazzano ecco qui poi ci sarà da fare io lo farò una differenzazione tra cultura e civiltà sempre per citare un grande quindi escludiamo gli inglesi dalla civiltà e io sono d'accordo perfetto il dottor Martino nelle sue annotazioni molto pratiche pratiche ma come dire fondate sull'esperienza del lavoro di generazione della sua famiglia fa un accenno tra cultura di impresa o comunque fa capire che esiste una relazione stretta tra cultura di impresa ed economia prodotta con il progresso scientifico questa è una cosa fondamentale questa è una cosa fondamentale se si pensa ad un filosofo e sociologo soprattutto francese della grandezza di Edgar Morin il quale ha analizzato potentemente e attraverso un notevole numero di produzione di libri di relazioni in tutto il mondo questo pensiero esiste una cultura di tipo umanistico e una cultura di tipo scientifico qui siamo arrivati a renderazione i relatori di questa sera appartengono in parte ad una cultura di tipo umanistico tra cui metto il professor Ballone non si offenderà anzi è una gran cosa e relatori che secondo me hanno dato hanno una componente fortemente economico scientifica come il dottor Martinoli ma il fare imprenditore non è detto che debba fare delle pubblicazioni scientifiche ma la sua formazione penso sia stata quella che appartiene senz'atto al mondo scientifico però io devo ancora avere un'idea chiara del sociologo il quale è un po' un filosofo della società e quindi non può presupporre da dati storici da analisi storiche per proiettarle poi nell'ambito sociale ed analizzare i fenomeni sia diatopicamente che diacronicamente tra regione e regione tra stato e stato tra nazione e nazione tra distretto e distretto e nei tempi successivi non antecedenti il pensiero di questo grande ultracentenario che è Morecchio scoperto quando ho molto è complesso la distinzione che fa tra cultura umanistica e civiltà è una differenza profonda in realtà la cultura è qualcosa che attiene alle specificità di una popolazione alle sue caratteristiche alle sue caratteristiche produttive alle sue caratteristiche di credenza alle sue caratteristiche di saper fare di realizzare manufatti la civiltà è invece qualcosa che è in grado di trasmettere tutti questi valori anche ovviamente valori religiosi e morali tradizionali vorrei dire e la civiltà è invece qualcosa che è in grado di trasferire tutti questi saperi alle successive generazioni o in altri luoghi storicamente si può dire che alcune culture sono diventate anche delle grandi civiltà altre sono state solo delle grandi culture e Garmore cerca proprio di fondere queste due modalità di conoscenza umanistica e di conoscenza scientifica tutto vantaggio del futuro del futuro perché qui noi stiamo parlando il titolo della questa diciamo giro di settima manifestazione del festival è vita e lavoro gli orizzonti del domani quindi è qualcosa che si proietta nel domani quindi non ci si può esimere da una tecnologia e da un progresso scientifico o da un atteggiamento scientifico che tenga però presente le necessità dell'uomo soprattutto a livello globale cioè in pratica non ci può essere progressione scientifica in questo globo che è una piccola terra se non si tiene conto anche delle peculiarità antropologiche culturali delle singole comunità ecco abbinare queste due caratteristiche mi sembra una sfida epocale soprattutto per il riconoscimento della nostra piccola umanità ad un unico complesso qui non si tratta di fare la guerra ad una nazione vicina per sottolineare il proprio valore la propria indipendenza si tratta di essere coscienti che tutti apparteniamo a un mondo in cui il progresso dipende esclusivamente dalla condivisione di valori che ritornano nell'ambito di un umanesimo legato al progresso scientifico quindi quello che io ho imparato questa sera è che le problematiche sono complessissime e le relazioni sono state interessantissime viste da punti di vista diversi e io sono veramente contento non di aver promosso questa serata ma di essere stato presente a sentirmi grazie grazie a tutti grazie ai ragazzi che sono fermate una ora tardi domani hanno lezione grazie a Michele insalata e continuo ci sono che posso una sala quando avremo il professor Salvemini proprio in questa sala a raccontarci del quid imprenditoriale e quindi l'appuntamento è per seguire le tante ancora ai tanti a dare a un'altra nipote non so che nipote non so grazie ancora benvenuti grazie a tutti